piano 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 eccolo qua grandissima sorpresa ecco un saluto dal salutatore dal grande mario cordova ciao ragazzi un saluto a tutti voi che seguite questo canale pazzesco meraviglioso un grande ecco qua detto detto da te male tre volte e tu sei un grande e premio crocitti appena vinto e te lo meriti il premio non ho meritato poi tu hai fatto grandissimi voci internazionali e ti chiedo un saluto a Richard Gere, Jeremy Irons, Bruce Willis, Christopher Lambert un sacco però bello bello allora io ti chiedo di fare un saluto a Richard Gere ah io un saluto a Richard Gere ma senza di te la mia vita cosa sarebbe stato nulla non sarei stato nessuno devo tutto a te grazie grazie a te e un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono a tutti ragazzi un abbraccio a tutti grandissimo e ho per te una sorpresa la manina del salutatore non poteva mancare per te eccolo qua ciao ciao grande